Credo che questo evento, queste giornate di confronto, di discussione siano particolarmente utili e opportune proprio perché siamo tutti consapevoli della grande potenzialità offerta oggi dalla rete internet, dai nuovi mezzi di comunicazione e al tempo stesso anche dai rischi che sono connessi all'utilizzo non sempre responsabile e non sempre consapevole sufficientemente della potenzialità e anche quindi dei pericoli che si insidiano nella rete. È bene che gli utenti siano informati, vorrei dire formati, soprattutto i giovanissimi che ormai hanno accesso in tutte le ore del giorno e della notte attraverso gli smartphone alla rete, è bene che siano educati ad un uso consapevole. Io in particolare come parlamentare mi sono occupato come relatore fra l'altro della legge per il contrasto e la prevenzione del cyberbullismo. Il cyberbullismo è un fenomeno che sta crescendo enormemente nelle sue manifestazioni, che sta diventando un rilevante problema sociale e culturale. La legge che stiamo facendo, che ha già passato l'approvazione della Camera e sta approdando ora al Senato, è una legge che si propone di contrastare, anche di sanzionare questi fenomeni, ma soprattutto di prevenirla attraverso l'educazione a un uso consapevole della rete e con un grosso ruolo che viene affidato soprattutto alla scuola, ai centri di aggregazione giovanili, anche alla famiglia in rapporto in relazione con la scuola.